Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24. La cronaca in apertura era la guida senza patente. La notte scorsa a Pisticci, in provincia di Matera, un giovane di 17 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Nell'auto con il ragazzo c'era un altro giovane che è rimasto ferito in maniera lieve ed è ora ricoverato all'ospedale di Policoro. Tornavano da una festa. Secondo quanto si è appreso, il giovane stava guidando un'auto di proprietà di un familiare, ma ulteriori indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Ora nel brindisino con tutti gli aggiornamenti sulla donna ritrovata carbonizzata e per cui è stato fermato il figlio. Alberto Villani, arrestato nelle scorse ore con l'accusa di omicidio volontario della madre, avrebbe già minacciato di morte e maltrattato più volte la donna in passato. Lo ha scritto il pubblico ministero nel decreto di fermo emanato nelle scorse ore. Durante l'interrogatorio in caserma l'indagato non ha risposto a nessuna delle domande. Nell'atto i maltrattamenti vengono definiti gravissimi, motivo per cui in precedenza era stato emanato un divieto di avvicinamento dell'uomo nei confronti della madre. Il 47enne di San Michele Salentino nel brindisino è stato arrestato ieri pomeriggio a seguito del ritrovamento del corpo carbonizzato della madre Cosima D'Amato, 71enne, all'interno dell'abitazione in campagna nella quale viveva l'indagato. A trovare il cadavere sono stati vigili del fuoco, chiamati a seguito della segnalazione di un incendio. All'arrivo dei soccorsi Villani avrebbe detto che all'interno dell'appartamento non ci fosse nessuno. Negli atti è riportato inoltre che l'uomo si trovasse in evidente stato di ebrezza. Al momento dell'incendio Villani ha spiegato di avere un appuntamento fissato per il pomeriggio con un geometra e la vittima per vendere l'immobile. Appuntamento al quale nessuno dei due si sarebbe presentato. L'uomo ora si trova nel carcere di Brindisi. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. I carabinieri hanno arrestato un 23enne di Matera perché responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e distorsioni nei confronti della madre. Al culmine dell'ennesimo episodio di violenza i militari sono immediatamente intervenuti dopo la richiesta d'aiuto della donna al 118. Evidenti segni di lesioni alle gambe e al volto per cui è stata medicata in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Da quanto si è appreso il ragazzo da circa due anni pretendeva elargizioni giornaliere di soldi dalla madre e quando gli venivano negate inveiva verbalmente e fisicamente nei suoi confronti. Il 23enne è stato anche segnalato in prefettura poiché è trovato in possesso di 60 grammi di eroina. C'è un nuovo dirigente per il 118 in Basilicata. È stato già direttore del DEU 118 il dipartimento che fa capo all'azienda sanitaria di Potenza ma che gestisce a livello regionale il servizio di emergenza urgenza dal 2005 al 2015 e dal 1 ottobre tornerà alla guida della struttura. Parliamo del dottore Libero Mileti, attuale direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, funzione che continuerà a mantenere. L'anestesista del reparto di rianimazione del nosocomio Potentino dal 1990 prima di passare nel 2001 a dirigere la rianimazione dell'ASL 3 di Lago Negro in provincia di Potenza, struttura sotto la cui competenza rientravano tre ospedali chirurgici della zona. Una carriera lunga e costellata da grandi risultati, non a caso Mileti ha guadagnato l'appellativo di rianimatore dei record, essendo l'unico rianimatore in Italia ad avere all'attivo più di 8.000 ore di volo. Prospettive tante perché insieme al 118 ci sarà il 112, abbiamo l'accordo con la regione Puglia e anche quello è una cosa fondamentale. C'è il 116-117 che insieme al decreto ministeriale 77 prevede le attività di carattere non urgente per l'utenza, per i cittadini. Parliamo di cronicità, di pazienti fragili, di pazienti che hanno delle limitazioni, hanno bisogno di un supporto ordinario, giornaliero, anzi più volte al giorno. È evidente che bisognerà garantire tempi di percorrenza per far arrivare qualcuno a casa o sulla strada dell'evento. Sono il territorio difficile, le postazioni non sono tantissime, per coprire la regione entro 20 minuti ce ne vorrebbero il doppio. O si entra in una logica dove c'è il volontariato in supporto oppure bisognerà immaginare di integrare ancora di più le postazioni che sono già presenti. Mileti andrà a sostituire nella direzione del Dipartimento il facente funzioni dal 2020, il dottor Serafino Rizzo. Prosegue a Bari il Forum Mediterraneo in Sanità Il valore dell'equità nella salute, la sostenibilità del ruolo delle direzioni strategiche, dei presidi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale ed il futuro della professione infermieristica. Sono stati questi tre i capisaldi della mattinata della seconda giornata del Forum Mediterraneo in Sanità qui a Bari con un particolare rilievo. La questione economico-finanziaria che passa dall'Europa, arriva al Governo centrale, si dirama sulle singole regioni e il cardine per il futuro della salute di noi pazienti. Abbiamo fatto un percorso incredibile al centro di Tricasse che, sottolineo, è iniziato nel 2012 da zero e attualmente viene considerato tra i primi al mondo nel settore. Dobbiamo avere la visione di quello che succederà tra cinque anni. La mia esperienza americana mi ha molto aiutato a portare il funding pubblico e privato. È importante, in questo momento di incertezze, stabilire un nuovo percorso analogo al Biotecnopolo per sostenere nel tempo e nel futuro questo processo. Occorre una riforma, penso che dopo 30 anni la riforma madre che ancora governa o meglio definisce i modelli di governance penso che sia abbastanza superata. Riteniamo di dare un contributo con Federsanità anche a chi governa o nel momento in cui ci si deve approcciare ad una riforma di dare una riflessione importante, con dei dati alla mano, per consentire di rivedere questo ruolo. La professione femministica ha ancora attrattività sui giovani. Quello che non è attrattivo sono le condizioni organizzative, lavorative, professionali, di sviluppo di carriera, di riconoscimento dell'autonomia, delle capacità, delle competenze, quindi in definitiva quelle economiche. Lo Stato del Paese invita i giovani a formarsi vicino ai luoghi di vita. Non è più tempo di pensare che un giovane possa venire da Bari a Bologna, a Milano, a Torino per studiare perché significa stare tre anni fuori di casa a spese della famiglia. Fratelli d'Italia, la Fiera dell'Evante è usata da Emiliano e De Caro come vetrina personale. La Fiera delle Vanità, così il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia alla Regione Puglia, ha ribattezzato l'ultima edizione della Fiera dell'Evante di Bari. Un controbilancio corredato da un video ad hoc per analizzare l'andamento dell'86esima campionaria da un'altra prospettiva che vede un bilancio complessivo fortemente negativo con uno scarso appeal per gli investitori, problemi strutturali irrisolti, una visione mancante e soprattutto l'accusa rivolta alla maggioranza di centrosinistra di utilizzare l'evento più per una vetrina personale dei suoi esponenti di punta come Emiliano e De Caro che per la mission originaria che, a giudizio di Fratelli d'Italia, è ai minimi storici. Non si è parlato di impresa, non si è parlato di lavoro, non si è parlato di investimenti ma si è parlato solo dell'addio di De Caro alla città e dei pianti di Emiliano a punta di De Caro. Credo che questo sia un fallimento totale. Cosa proponete? Ma noi proponiamo intanto, adesso attraverso l'Istituto delle Interrogazioni, capiremo per bene quelli che sono stati gli investimenti, o meno da parte nostra, gli sperperi che la Regione Puglia continua ancora a perpetrare nei confronti, e a danno dei cittadini pugliesi. Perché la Fiera di Levante, oggi i padiglioni sono fittati da agenzie regionali, si continuano a pagare l'autifitti, non se ne capisce perché. Lo ha detto anche la Corte dei Conti e quindi dobbiamo prima capire che impegno ha la Regione nei confronti di questa fiera. E soprattutto va definita una volta per tutte la questione dell'ospedale Covid che continua a mettere debiti per la nostra Regione. Idee chiare in Fratelli d'Italia quanto alle responsabilità. Le responsabilità sono prima di tutto dei soci e poi della Regione Puglia che ha la Golden Share nel nominare il Presidente e soprattutto nel mettere i soldi a disposizione. E quindi nomi e coniubi ben precisi, Michele Emiliano e Antonio De Caro. La disamina dei consiglieri regionali di FDI va oltre i confini cittadini baresi. Il governo Emiliano non ha una programmazione, ha completamente fallito. Una volta c'era un sistema feristico regionale che abbracciava più fiere in tutta la Puglia, oggi si vive alla giornata, si vive in base alle richieste momentanee, si vive in base alle esigenze elettorali o di De Caro o di Emiliano. Tutto questo secondo noi non è corretto. Ha fatto tappa a potenza il tour del segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri che all'Iceo Scientifico Galilei ha parlato di sicurezza sul lavoro. Un confronto con alunni e corpo docente per analizzare il tema della sicurezza sul lavoro. Un incontro con chi gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani e che già si stanno avvicinando al mondo del lavoro grazie ai progetti PCTO. Ha discusso di questo il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri che ha incontrato gli alunni dell'Iceo Galileo Galilei del capoluogo di Regione Lucano. Un'iniziativa che è la prima in una scuola dopo l'assemblea di mercoledì scorso a Roma organizzato dal sindacato alla presenza di un migliaio di rappresentanti di lavoratori per la sicurezza aziendale e territoriale per rilanciare l'impegno pluriennale della UIL con al centro l'obiettivo zero morti sul lavoro. Purtroppo noi continuiamo a sostenere che si tratta di una guerra civile. Continuiamo a sostenere che c'è una responsabilità morale della politica e del governo che non agisce in modo immediato per dare risposta alle tante cose che provengono dal mondo del lavoro e che hanno bisogno di risposte immediate. Faccio un esempio, noi continuiamo ad avere più di 900 morti l'anno e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci dice che il 90% delle verifiche che fa portano a sanzioni penali. Se questi sono i numeri è necessario aumentare le ispezioni, è necessario aumentare gli ispettori, è necessario assumere la responsabilità per dire che le aziende che violano le norme sulla sicurezza non possono partecipare ai bandi pubblici. L'occasione è stata utile per mostrare al numero uno della UIL le attività di laboratorio che sono svolte nell'Istituto Potentino. E la sensibilizzazione è proprio partire da elementi, elementi dei giovani perché all'attività di PCTO che si avvia in terzo liceo in questo caso c'è una voglia di ancor di più formare gli studenti alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. I nostri ragazzi hanno magistralmente compreso come con una grande forza anche a livello politico nazionale si possono mettere in atto strategie di prevenzione e questo oggi forse è proprio il primo tassello per arrivare a formare ancor di più menti consapevoli perché saranno i cittadini il domani. Mattea Racelebra a San Teostacchio ieri i momenti conclusivi. Con un apprezzato spettacolo piro musicale allo Stadio 21 Settembre si sono chiuse le celebrazioni a Matera in onore di San Teostacchio e Famigliari Martiri. Il programma dei festeggiamenti è cominciato nel pomeriggio col concerto bandistico della città di Matera nelle strade del Centro Storico. A seguire in cattedrale Monsignor Pino Caiazzo, vescovo della diocesi di Matera Ersina di Tricarico ha presieduto la Santa Messa. Come è stato per il Stadio e i suoi familiari quella stessa parola diventa roccia sulla quale io sto cuocciando la mia esistenza, sulla quale io voglio continuare a guardare nonostante lo sguardo pieno di lacrime e lucido per quello che sto vivendo voglio continuare a guardare a colui che ha dato la vita per me. Da Piazza Duomo è partita la processione della Sacra Immagine del Santo Patrono insieme a un dipinto, novità di quest'anno, che raffigura San Teostacchio, sua moglie e i figli realizzato da Don Ivan Santa Croce, parroco lucano, alla guida della parrocchia di Terzo Cavone a Scanzano Ionico. A scortare il simulacro i Cavalieri della Bruna e i Pastori dell'Anima. Nel corso del triduo di preparazione sono state consegnate le pergamene per il rinnovo delle promesse matrimoniali alle coppie che hanno festeggiato quest'anno il loro decimo, venticinquesimo, cinquantesimo e sessantesimo anniversario di matrimonio. Ricco il programma degli eventi collaterali con concerti e spettacoli proposti ogni sera in Piazza San Francesco con tanti talenti locali e artisti noti. Esempio di fede e fermezza di fronte alle versità, San Teostacchio, grazie al lavoro avviato da diverso tempo dall'Associazione Mare Santissima della Bruna, è sempre più venerato dai fedeli. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.